Come posso dire, io sto cercando tanta crescere in questo momento e sto cercando di avviare però a livello di quantità di contatti nel senso che fornendo un senso di costruenza gratuita non posso più di tanto scommare comunque il mio corso in maniera semplice e adesso sto collaborando con John, che sto mettendo un accordo per partire appunto con il marketing programmatico di ciò che faccio e il mio obiettivo è quello di raggiungere più clienti possibili e continuare a fare più consulenze possibili. Ok, chiaro. E senti, quindi tu vuoi aumentare i clienti e le consulenti. Quanto stai facendo adesso in questo momento con la tua attività? Sei ancora giovane, voglio dire. Sì, ti dico che ho avviato questa attività da tre mesi, sto iniziando il quarto e al momento riesco a raggiungere comunque una decina di clienti al mese perché non siamo ancora belli avviati. Ah, vabbè, buono, 10 clienti al mese e a quale prezzo più o meno? Noi non abbiamo prezzo. Noi abbiamo una consulenza gratuita, noi forniamo assicurazioni vita, quindi sono fondi di deposito e di risparmio dedicati alle famiglie, alle aziende. Poi la famiglia e l'azienda che decide la quantità, ma il nostro obiettivo è già portarli a fare un sfondo di caratteristica per loro. E qual è il tuo introito in tutto questo? Eh, in questo momento ci troviamo sui 2k al mese. 2k al mese? No. E da qui ai prossimi 12 mesi per sentirti contento dove vorresti arrivare? A fatturare tranquillamente 10.000k al mese senza problemi, anche di più. Ok Gabriele, quindi 10.000 in più al mese da quei prossimi 12 mesi e quanti contatti in più dovresti avere secondo te? O clienti? All'incirca dovrei fare una cosa come 30 appuntamenti al mese, quindi 30 clienti al mese e portarmi a casa 10-15. Ok, 10-15 clienti in più al mese con 30 appuntamenti, quindi hai metà di 50% di chiusura, giusto o più o meno? Sì. Ok, bene. Sì, esatto. Ovviamente offri anche una cosa gratuita, quindi un po' avvantaggiato da quello, però diciamo 30 contatti in più al mese. E senti Gabriele, da qui ai prossimi 12 mesi, se facendo proprio male, io ti desse un nuovo strumento, un nuovissimo strumento che abbiamo appena testato con il nostro team, per fare facendo male anche solo la metà, 5.000 in più al mese. Sì. Saresti disposto a darmi 114 euro e passare a investire tre giorni del tuo tempo con me personalmente? Il discorso è che questi tre giorni qua sono l'anno prossimo, giusto? Sì, chiaro, chiaro. Ed è per questo che, proprio perché, allora questo qui costerà 2.000 euro perché è un mega evento pazzesco che stiamo facendo, so che tu come me vuoi risultati per ieri, no? Proprio per questo, proprio perché diamo fiducia, intanto diamo questo prezzo solo oggi perché stiamo chiamando tutti quanti, come vedi anch'io sono in prima linea a chiamare. Due, chi ci dà fiducia oggi, abbiamo già 400 persone prenotate, vogliamo metterne altre 100 solo oggi, già siamo a 30 oggi e siccome, chiamiamo così, stiamo dando questo prezzo enorme, chi ci dà fiducia oggi e compra così su due piedi, ok, per questo mega evento che secondo me vale almeno 10.000, lo stiamo sottovalutando, cioè proprio regalando, io do per non aspettare, non solo ti do l'onboarding dei venditori, che do ai miei venditori delle prime tre settimane, che già solo quello ti aumenta del 50% le vendite, te lo do gratis, lo stiamo vendendo a 1.500, che è la prima parte di onboarding. Ma due, avrai anche tutti i bonus da qui a novembre 2023 che avranno tutti gli altri che hanno il tuo stesso biglietto. Guarda, ti mando il link, ti mando il link e tu me la prendi adesso e ti sblocco subito il corso. Istantaneamente ti aumenterà le entrate, da subito, va bene? Ok, va bene. Perfetto, prima di chiudere la call, tanto per considerare, io ti ho proposto il biglietto normale a 114 euro, ok? Ora, se vuoi ti do anche il biglietto VIP a solo 83 euro in più, 197, tu hai posti migliori, tantissimi bonus ancora di più, o la possibilità di avere un party intimo con i miei migliori clienti e anche con grandi ospiti e questo lo venderemo anche a 3.000 probabilmente. Ok. Giusto per considerare. Ti mando questo? Sì. Perfetto. Va bene. Va bene, poi l'ultima cosa Gabriele, appena mi hai fatto il pagamento, te lo mando subito tramite Francesco, ti mando anche una sorpresa personalizzata per te, dal mio Whatsapp personale, ok? E due, entrerò in call quando, voglio pronotare una call con te, settimana prossima magari, ok? Ti pronoto Francesco, magari la fai con lui, e entro anch'io in call e vediamo insieme come aumentare la tua attività, ti do una consulenza gratuita, va bene? Va bene, volentieri, molto volentieri. Perfetto, quindi ti pronoto lui, l'unica cosa ti chiedo il pagamento adesso perché stiamo facendo una sfida, questa è la vendita di Francesco e quindi almeno porti avanti perché oggi facciamo questa mega offerta e una sfida interna, va bene? D'accordo, va bene, volentieri. Perfetto, senti, qualsiasi motivo per cui potessi non fare il pagamento adesso con Francesco? Semplicemente perché ho l'applicazione che è fuori, quindi do andare allo sportello e fare il pagamento da lì. E senti, con Paypal riesci? Non ho Paypal. Non hai Paypal, ok. E quindi tu vai allo sportello, lo fai e fra un'ora riesci a farlo più o meno? Sì, all'incirca sì. Ok, va bene, senti, ti mando un messaggio personale col mio WhatsApp, dopo mi dai una conferma e ti mando anche un video personalizzato, va bene? Certo, va benissimo, d'accordo. Grande Gabriele, ci vediamo dopo, non vedo di vedere i tuoi risultati, poi mi aggiorni su WhatsApp, va bene? Va bene, volentieri, grazie. A dopo, ti passo Francesco, ciao. Grazie a tutti. Ciao, ciao. quali cose?